Iniziamo la conferenza stampa. Roma TV, buongiorno mister. Silenzio per cortesia. Buongiorno mister, sta per iniziare il suo secondo campionato da allenatore della Roma, le chiedo quali sono, se ci sono le differenze rispetto a 12 mesi fa. Sicuramente ci sono, sono cambiate tante cose, è cresciuta la consapevolezza, è cresciuta un'idea e per quello sono molto contento di aver confermato quest'anno. Nel stesso tempo vogliamo partire benissimo per quella che è la prima trasferta insidiosa col Torino. Roma Radio, Censi. Buongiorno mister, tanti nuovi acquisti ma anche tante conferme rispetto allo scorso anno. È difficile scegliere l'undici titolare per Torino-Roma? Meno male che sono in difficoltà nel poterlo scegliere. Significa che abbiamo messo dentro dei giocatori che hanno delle qualità importanti, che hanno avuto la possibilità poi più che altro di allenarsi con continuità in questo periodo. Per quello sono contento e vi assicuro che ho delle difficoltà nel mettere giù la prima formazione, ma ben vengano, perché a me piace preparare le partite avendo qualche dubbio. Non mi piace avere troppe certezze. Sky, Angelo Mangiante. Eccoci, rimango sull'argomento. Allora, tra i nuovi al centrocampo, chi è più in condizione in questo momento tra Pastore e Cristante? Secondo me sono tutte e due in ottime condizioni con caratteristiche differenti. Dipende da quello che vorrò. Potrebbero essere uno o tutte e due della partita. Per quello oggi sicuramente non mi svelerò quella che sarà un po' la formazione. Dico solo che sono due giocatori che potrebbero partire dall'inizio, per quello che è stato il loro percorso in precampionato, per la loro crescita e per le caratteristiche differenti che hanno. Perché ho sentito spesso parlare di due trequartisti come caratteristiche. Io credo che uno sì, l'altro lo può fare, ma è più un centrocampista come caratteristiche tecniche parlo. Parliamo di Brian Cristante. L'altro è più rifinitore. Una sfida comunque molto intrigante sotto profilo tecnico con due grandi centravanti. Le chiedo cosa ha in più Geko di Belotti e cosa ha in più se ha qualcosa in più di Geko? Prima di tutto tante esperienze in più da parte di Edin, ma hanno caratteristiche tecniche dal mio punto di vista totalmente differenti. Magari Belotti sta più nella partita a livello di determinazione, di cattiveria, di attacco della porta, di attacco della profondità, di continuità di corsa, mentre Edin è più qualitativo dal punto di vista del gioco e di quello che esprime durante la gara. Per quello non credo che siano due attaccanti paragonabili, anche se a me Belotti piace tantissimo per come si muove in campo, per il lavoro che fa anche per la squadra. Il romanista Pastore. Buongiorno. Al netto di possibili cessioni ci sono ora nove centrocampisti in Rosa. Lei ha sempre intenzione di partire quel 4-3-3 oppure ha anche qualche altra soluzione con questo ampio ventaglio di scelte? Il fatto che ho nove centrocampisti dovrei farne giocare due in più per poterli accontentare. Per quello non cambia il sistema di gioco, perché sennò torniamo sempre a parlare di numeri o di sistemi di gioco che alla fine diventano dinamici. Però credo che ci saranno delle possibilità che qualche giocatore possa uscire, come ci sono altri giocatori giovani, come Cioric che sto utilizzando da esterno alto. Per quello ho visto che non ci sarà anche Perotti in questa gara che ha avuto un problema nella cabiglia durante l'allamento di ieri, non è convocato. Sicuramente mi darà una possibilità in più, un alternativo in più come attaccante esterno alto, perché ha le caratteristiche per poterlo fare. Per quanto riguarda Zagnolo, che è il giovane che è arrivato da poco, penso che abbia veramente delle grandissime potenzialità. Però dietro c'è un percorso di crescita, calcolando che un giocatore che non ha mai giocato in Serie A non ha mai fatto una presenza. Nell'insieme generale abbiamo cercato di mettere dei giocatori dentro che abbiano delle caratteristiche importanti e che poi io voglio mettere tanti giocatori importanti, così quando li cambiano, vi lamentate che magari non sono all'altezza degli altri. Allora dico solo che per poter essere competitivi su tutti i fronti dobbiamo avere dei giocatori, dico, tutti pronti per poter giocare da titolare. Gazzetta dello Sport, Pugliese. Salve, buongiorno. Io invece le volevo chiedere un giudizio sull'ultimo arrivato in casa Steven Zonzi, il quale poi nella conferenza stampa e presentazione auspicava anche la possibilità di poter giocare insieme con De Rossi. Eventualmente quale potrebbe essere la soluzione per vederli insieme? Andate sempre molto avanti. Mi piace perché mi volete dare una mano. Io credo che un giocatore che è arrivato, si è allenato una volta con la squadra, non sarà convocato per questa gara, ha bisogno di rimettersi un pochino in condizione perché ha fatto pochissimi allenamenti a Siviglia, è un campione del mondo per quello avrà festeggiato giustamente quello che è stata una grande vittoria per la Francia, però il fatto della possibilità di poter giocare insieme a De Rossi perché no? Perché chiudersi in partenza? Vi ho dimostrato di non essere più integralista per quello si può pensare a tante altre soluzioni. Detto questo non significa che mai lo farò. Poi se lo dovessi fare, sono due giocatori che sì che magari si può creare un dualismo ma nello stesso tempo hanno caratteristiche per poter coesistere. Prego. Il Corriere della Sera, Valdiserri. Buongiorno. Volevo chiedere se avesse potuto decidere lei domani avrebbe fatto giocare il campionato dopo quello che è successo a Genova oppure avrebbe preferito che tutte le squadre non giocassero? No, io colgo l'occasione per essere vicino ai familiari, a quello che è accaduto nella città di Genova. Veramente è stato come vivere un film, vedendo le immagini. Veramente un paradosso, però ritengo che è giusto che Sampdoria e Genova abbiano chiesto di rinviare la gara. Com'è giusto secondo me che noi giochiamo anche per onorare e per cercare di dare un segnale di continuità, di sport, di serietà, di modi di fare. Per quello credo che siano importanti gli atteggiamenti, perché magari se uno non avesse giocato sarebbe andato ugualmente al mare o a teatro, a farsi un giro o a fare shopping. Se tutti magari fossimo rimasti a pregare per due o tre ore in casa avrei potuto anche accettare un discorso del genere. Però io credo che sia giusto continuare a giocare con grande rispetto per quello che è accaduto a Genova. Il Corriere dello Sport Guido Dubaldo Buongiorno e buon campionato. Volevo chiederti alla luce, perché l'hai fatto frammentariamente nel corso della stagione, in particolare quando eri in turnie, ma adesso che è completata la campagna acquisti, vorrei chiederti il tuo giudizio finale, se sei soddisfatto, se sono stati centrali di tutti gli obiettivi, se invece manca ancora qualcosa e se la pesante eredità di Alisson è stata ben riposta nel nuovo portiere svedese che è arrivato. Io credo che sono state fatte tante scelte legate a tante situazioni come le cessioni. Abbiamo messo dentro tanti giocatori, io credo che più che parlare di quantità, parlare di qualità di quello che abbiamo messo dentro. Penso ci sia tanta prospettiva, anche tanti giocatori pronti. Per quanto riguarda Alisson, non è facile sostituire Alisson, che è ritenuto forse uno dei migliori, se non il miglior portiere al mondo. È venuto Robin, che è un portiere che si è messo subito a disposizione, ha dimostrato di avere delle qualità importanti sia al mondiale e mi auguro che le possa riportare anche poi con la Roma, a partire da domani perché giocherà da titolare. La Repubblica, Pinci. Salve, qui in piedi. Io volevo chiederle che effetto le ha fatto nelle ultime settimane, leggere che squadre che sono arrivate dietro la Roma, con bilanci ancora monitorati dall'UEFA, cercassero giocatori come Modric, Vidal, Milinkovic, che però ovviamente alla Roma non sono mai stati a costare. Io penso che pure noi abbiamo parlato di Messi, mi sembra, qualche volta, no? Nel senso il dire e il fare, spesso c'è di mezzo il male, no? Si è parlato tanto, ma concretamente credo che tante squadre che sono arrivate sotto di noi si siano rinforzate. Ma anche la stessa Lazio, che ha mantenuto tanti giocatori importanti e ha messo dentro dei giocatori molto interessanti, la Fiorentina stessa, ma il Torino che affrontiamo domani. Guardiamo anche le squadre che sono state sotto di noi, che magari non sono tra le grandi, però hanno messo giocatori di qualità, ma un po' tutta la Serie A è migliorata anche dalle parti basse. Il calcio italiano a partire da Cristiano Ronaldo, la Serie A, ha aumentato la sua qualità in campo. Per quello sarà ancora un campionato più difficile e sono convinto, siccome se ne sta parlando poco, anche la partita di domani sarà una partita molto difficile, sia per storia ma anche per le qualità dei giocatori che è il Toro. È l'allenatore che prepara le partite con una meticolosità, con un'attenzione veramente importante. Prego. Teleradio Stereo, Cotumaccio. Ben trovato, mister. Ieri il direttore sportivo in conferenza stampa tra i giocatori che potrebbero ricoprire il ruolo anche di esterno offensivo a destra, ha nominato Florenzi. Contando anche il ritorno di Carzorp, che è di fatto un acquisto di questa Roma, c'è la possibilità davvero di vederlo lì durante questa stagione o lei lo considera ancora soltanto come un terzino? Guarda, è un po' come il concetto di prima, del fatto che in base alle partite che andremo a fare. Ti ho visto una volta che con il Barcellona mi sono messo 3-4-3, per questo dipende sempre come ti muove e quello che tu vuoi fare. Ric è rientrato bene, ha ancora avuto un piccolo infortunio durante il suo percorso di rientro, non è ancora al top della condizione, però in grande crescita. Mentre Florenzi, oggi come oggi, a me che piace un po' lavorare su determinati ruoli, determinati concetti, lo ritengo ancora un terzino, sapendo che può ricoprire rispetto a tanti altri giocatori con facilità anche il ruolo di esterno alto, con caratteristiche differenti da quelle che magari io solitamente ricerco. Facciamo l'ultima, Loghi, Rete Sport. Salve mister, buongiorno. Alla luce di quello che è stato il mercato, lei prima parlava di qualità, di quantità, di profondità anche della Rosa, ritiene di avere a disposizione un organico migliore rispetto a quello dello scorso anno all'avvio del campionato? Ma lo vedremo col tempo, con i risultati, col campo, con la crescita di questi ragazzi. Dirlo adesso sarei, secondo me, anche inopportuno, però sono andati via dei giocatori importanti, però mi auguro il pensiero che abbiamo avuto e che abbiamo fatto, magari è saltato qualche giocatore che avremmo voluto, perché era evidente, era palese, lo sapevamo, però nell'insieme generale sono soddisfatto di quello che abbiamo detto dentro. calciatori e anche uomini, veramente interessanti sotto tutti i punti di vista. Poi magari in questa Rosa, visto che il mercato è aperto anche ad oggi in altre nazioni, potrebbe uscire ancora qualche giocatore, più che arrivare non possono arrivare ne più, però magari potrebbe essere ancora sfottita questa Rosa, dove abbiamo veramente tanti giocatori in questo momento. Grazie. Grazie.